30 di agosto 2012 siamo davanti al rifornimento di metano di montalto questa è la situazione santa maria di settimo per la precisione l'unico rifornimento in provincia di cosenza sempre operativa e questo e siamo sempre qui a fare la prima mediamente 20 minuti e mezz'ora ogni volta ringraziamo comunque il gestore di questo impianto che è sempre molto disponibile apertoci agli orari continuativi dalle 7 e 30 alle 22 la domenica dalle 8 fino alle 20 tutto questo durante il periodo estivo quindi tutto sommato i disagi sono minimi ci sono anche oggi 34 gradi non è male che per lo più si tratta di veicoli piccoli tipo pande fiorini altro che fanno metano subito quindi perdiamo poco tempo se si trattasse di multiple fossero tutte multiple ci vorrebbe questa sera le 10 per finire il rifornimento speriamo che finisca presto questa apocalisse di solito questa problematica si risolve alla fine dell'estate un'occhiata a meteo banduta d'arresto per l'estate con la previsione di temperatura impicchiata l'acqua di protezione civile annuncia l'arrivo di piogge temporali sul centro nord con diffuse precipitazioni e anche con la caduta di grado grazie e guardiamo do o qui è cosa uscirà dalle norni di Montecarco, deciderebbe il giro di Dio del Champions League in Italia, ma lo ricordiamo, partecipa con solo due squadre, il Merri-Lentus, dall'edizione 99 di Mila, Dio del Champions è la prima volta che ci verificiamo con il Dio Solicari, di Rossodini, di Allegri, Dio e di Rossodini, di Allegri.